Allora amici a casa, amici della notte, benvenuti al GF Vip Night e ho qui con me Carmen! Carmen, ma senti, ma come fai ad essere così attivo all'una e mezza? Ma non hai sonno! Alfonso, ma a me piace il mio lavoro, mi piace ballare, mi piace il grande tello Vip e mi piaci tu! Beh, vabbè, ma allora io ti lascio il posto, vado a casa a dormire, eh! Carmencita, vai! Me tratas come una princesa e me das lo che pido, tu tienes il bate e la fuerza che io necessito, quando stiamo soli te juro non mi...